rora è uno dei progetti più divertenti di cui andiamo orgogliosi ideato da estra ed astralico l'associazione teatrale coinvolge 6.400 bambini e i loro genitori in tutta la toscana nelle marche in umbria si divertono questi ragazzi imparando il rispetto per l'ambiente fotografando delle equazioni dei momenti che illustrano la possibilità di risparmiare energia di difendere il nostro ambiente si coniuga un aspetto ludico e divertente con anche la digitalizzazione che è uno strumento moderno che ogni bambino deve praticare si centrano quegli obiettivi che estra nel segno della sostenibilità vuole centrare vuole raggiungere sono gli obiettivi dell'agenda 20 e 30 e gol individuati dalle nazionali quindi una estra che coinvolge bambini da scuola i cittadini del futuro per sensibilizzarli e far migliorare e difendere il nostro ambiente quindi ruggite con noi ruggite con estra e con rohar in difesa dell'ambiente